Come rimuovere la password e disattivare BitLocker su un computer con Windows 10. L'utilizzo di una password sul proprio account aiuta a proteggere il computer e i file. Ma è possibile utilizzare una password per abilitare l'accesso non autorizzato al computer Windows 10 in uso. In Windows 10 è possibile rimuovere la password dell'account e utilizzare un metodo di autenticazione più sicuro, come la crittografia dei dati. È possibile rimuovere la password dell'account locale di Windows sul computer con Windows 10. In Windows, aprire Impostazioni. Fare clic su Account. Fare clic su Opzioni di accesso. Selezionare l'opzione Password nella sezione Gestisci come si accede al dispositivo. Fare clic su Cambia. Confermare la password dell'account corrente e fare clic su Avanti. Lasciare i campi Nuova password e Conferma password vuoti e fare clic su Avanti. Quindi fare clic su Fine. Ora è possibile accedere al desktop di Windows 10 senza una password. È possibile rimuovere la password Microsoft e passare a un account locale. Ciò significa che non vengono visualizzate impostazioni personalizzate su tutti i dispositivi connessi all'account Microsoft. Per passare a un account locale e rimuovere una password Microsoft, seguire questa procedura. Aprire Impostazioni. Fare clic su Account. Fare clic invece su Accedi con un account locale. Per confermare i dettagli, creare un nuovo nome utente per l'account. Lasciare i campi Nuova password e Conferma password vuoti e fare clic su Avanti. Se viene richiesto di utilizzare un nome utente diverso, inserire un nuovo nome utente e fare clic su Avanti. Fare clic su Disconnetti e Chiudi. Il computer si disconnette e avvia la schermata di accesso di Windows 10. È necessario utilizzare il nuovo account locale al momento dell'accesso. Non è richiesta alcuna password per effettuare l'accesso. La funzionalità BitLocker criptografa l'unità in uso per proteggere i dati sul computer con Windows 10. Nel campo di ricerca della barra delle applicazioni, digitare Gestione BitLocker, quindi selezionarlo dai risultati. Fare clic su Attiva BitLocker. Scegliere una delle tre opzioni per il salvataggio della chiave di recupero e fare clic su Salva. Attenzione. La chiave di recupero BitLocker è univoca per il computer ed è necessaria per recuperare i dati dal computer se l'unità è bloccata. Se non si dispone della chiave o se la chiave non viene riconosciuta, è necessario reinstallare Windows sul computer in uso. Dopo aver salvato il file della chiave di recupero, fare clic su Avanti. Vengono fornite due opzioni di criptografia del volume. È possibile scegliere di criptografare solo lo spazio su disco utilizzato o di criptografare l'intera unità. Selezionare Applica criptografia all'intera unità e fare clic su Avanti. È possibile selezionare la casella di controllo Esegui controllo sistema BitLocker per controllare lo spazio disponibile sul disco rigido, oppure fare clic su Avvia criptografia per avviare una criptografia di base più veloce. Si riceve la notifica che la criptografia dell'unità BitLocker è stata avviata. È possibile continuare a utilizzare i file mentre è in corso la criptografia dell'unità. Una volta completata la criptografia dell'unità, viene visualizzato il messaggio Windows C BitLocker attivato. Il collegamento Disattiva BitLocker ora diventa disponibile. È possibile disattivare BitLocker e decriptografare l'unità. Nel campo di ricerca della barra delle applicazioni, digitare Gestione BitLocker, quindi selezionarlo dai risultati. Fare clic su Disattiva BitLocker. Confermare la decisione di disattivare BitLocker. Consentire al computer di decriptografare. Si riceve la notifica che la decriptografia di BitLocker è in corso. Al termine della decriptografia, viene visualizzato il messaggio Windows C BitLocker disattivato. Il collegamento Attiva BitLocker ora diventa disponibile. Fare clic sulla scheda Playlist in YouTube per trovare video HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. 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 Grazie.